Castelvecchio Calvisio è un comune abruzzese di 118 abitanti, detti castelvecchiesi, fa parte della provincia dell'Aquila. Parte del territorio del comune rientra nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, costituendone di fatto una delle porte di eccesso nella sua parte meridionale. Affacciato sulla Valle del Tirino, il borgo di Castelvecchio Calvisio sorge tra le montagne del Gran Sasso all'interno del Parco Nazionale, a 1067 metri di altezza. Strade strette, archi e volte, case costruite su più livelli e sulle linee morbide della collina, irraggiungibili attraverso i barbacani, ossia le antiche scale in pietra. Il borgo di Castelvecchio Calvisio presenta degli scenari naturali che si legano alle forti tradizioni ancora conservate e tramandate dalla comunità locale. Le strade sono disposte in maniera regolare e il borgo è suddiviso in porzioni geometriche quasi perfette. L'antica cinta muraria ancora mostra le antiche delimitazioni del centro abitato insieme alle porte d'accesso ancora conservate. La forma ellittica del borgo fortificato rende Castelvecchio Calvisio unico nel suo genere. Il borgo fortificato ha impianto medievale di tipo cardo decumanico, forse di origine romana, con cinta muraria munita di torri, quadrangolari, rompitratta. È noto per essere uno dei centri meglio conservati della zona. Numerosi sono i piatti tipici della cucina tradizionale di Castelvecchio Calvisio. Alla base di questi piatti troviamo ingredienti provenienti dal mondo della pastorizia e dell'agricoltura. Tra i prodotti tipici del borgo ci sono le cicerchie raccolte tra la fine di luglio e i primi di agosto. Si utilizzano soprattutto nelle zuppe, ma anche come contorno di piatti di carne oppure cucinate in purea. Con la farina di cicerchie si preparano inoltre maltagliati e tagliatelle. I cavoli strascinati, cavoli cucinati in padella seguendo una tipica procedura. C'è poi la misticanza di papaveri, ciccillocche e rucola, insalata di rucola e di un'erba selvatica, asparagi sott'olio, filacchi, formaggio e uova. I filacchi sono fichi acerbi, non consumabili direttamente, ma molto gustosi se cucinati. Cicoria selvatica sono solo alcuni tra i particolari antipasti tipici. Tra i secondi le ricette più cucinate sono quella dell'agnello in fricassea, agnello cotto con una base di olio e aglio, aromatizzato con vino sfumato e arricchito, a cottura ultimata da un intingolo composto da uova sbattute e aromi. La pecora alla chiaranese, carne di pecora stufata in grossi recipienti, secondo l'uso dei pastori, con olio, lardo, prezzemolo, salvia, cipolla e peperoncino. Peperoncino e crostuccia, il pane fritto in olio di oliva o in grasso animale, è un piatto consumato soprattutto per l'elevato apporto energetico. Tra i dolci da citare sono le ferratelle e le nocci atterrati, ossia delle mandorle ricoperte di zucchero caramellato, le spumette dolci tipo meringhe ottenuti da una base di albume d'uovo. Tipici del periodo pasquale sono la pupa e il cavallo di Pasqua. La prima, a forma di una bambola, viene regalata alle bambine e il secondo ai bambini. Si ha notizia del primo castello e delle prime chiese di Castelvecchio Calvisio dal Cronicon Vulturenze nel 779 d.C. L'attuale borgo fortificato, raro esempio di pianificazione medievale, nacque invece nel 1100. Il borgo fece parte della famosa baronia di Carapelle, che prese il nome dal demanium Carapelle, comprendente anche il limitrofo comune di Carapelle Calvisio, e che incluse successivamente i castelli di Calascio, Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio. Feudo della famiglia Pagliara, il borgo passò poi nell'ordine alle famiglie Colonna, Celano, Caldora, Accrocciamuro, Piccolomini Todeschini, Del Pezzo, Cattaneo, Medici e Borbone. Numerose testimonianze epigrafiche romane e preromane indicano che il territorio fu popolato da tempi remoti e in epoca romana pare certa la presenza di una villa calvisia, detta nel periodo alto medievale Villa Magna, situata nella valle tra Castelvecchio e Carapelle Calvisio. Sempre nel 779 d.C. abbiamo la prima notizia dell'importantissima chiesa di San Cipriano, antica parrocchiale del paese che testimonia con i suoi reperti tutte le varie fasi storiche. Castelvecchio nel 1400 era detto Castello Vecchio della Baronia, dal 1500 è documentato come Castelvecchio Carapelle e infine assunse l'attuale denominazione con reggio decreto del 1883. Aggregato al governo di Capestrano dal 1807 al 1811, riunito amministrativamente al comune di Capestrano dal 1811 al 1816 e poi al vicino comune di Carapelle, ottenne l'autonomia comunale nel 1906. Il borgo rimase nel resto dei secoli legato all'economia agricola e pastorale, finché non si incrementò lo spopolamento nel primo novecento per via dell'emigrazione. Il borgo negli anni 2000 è diventato un piccolo centro turistico, parzialmente danneggiato nel 2009 dal terremoto dell'Aquila.